8 dai carichiamolo carichiamolo dai che l'hai presa aspetta un attimo fuori arbitro no non era tutta non era tutta fuori mi dai la gioia di riprendere un altro collo no? dai che se la passa indietro uh se la sbuccia lì fuori 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 oh sto sbagliato grande lotto grande che recupero che ha fatto riccardo vai vai recupera 8 e 7 ok oh Grazie a tutti